è la mia spina che voglio cercare di risolvere i problemi che affliggono sorrendo infatti stamattina ho visto una cosa dei cani, c'è una manifestazione dei cani per la difesa del cano ovviamente Mario Carciolo e tutti il resto che hanno canizzato ogni tanto inventano una cosa oggi è stata la difesa naturale per il cano e sta ancora in piazza l'altra domani fanno la manifestazione delle macchine, un altro giorno un'altra cosa invece io secondo me, io adesso leggo su Acorà che c'è un'intervista di Luigi Di Prisco che è un ex compratello di San Antonio però Di Prisco dice una cosa, io ne dico un'altra e magari un altro candidato che ha bisogno Sorrendi? Sorrendi ha bisogno di un sindaco che sappia, capace di governare per i restanti 5 anni dell'attività comunale ma senza pensare ai loro interessi di pensare solamente, di portare Sorrendi ai migliori posti d'Italia che ci circondano fino ad oggi un'epoca e poi